Prodotti con buon inchi Prodotti con buon inchi Prodotti con buon inchi Prodotti con buon inchi ai prodotti, questi qui, verso Natura Eco, tra i prodotti bio c'è anche questo qui che è il Chantecler pavimenti eco-detergente. Adesso non so se effettivamente questo sia completamente bio, ma molto probabilmente avrà una formulazione vegetale, infatti 100% attivi di origine vegetale. Il demo molto simile ai prodotti della Conna troviamo ovviamente i prodotti della Vivi Verde Coop, anche questa linea molto vasta di prodotti sicuramente li avrete visti in giro perché da un bel po' che ci sono. Alla Lidl invece sono arrivati questi prodotti molto molto interessanti, ve li faccio vedere, io nel frattempo cerco la foto sul cellulare perché li ho fotografati. Allora, sono il detergente per i piatti che sa anche 99 centesimi, vi dico, che si chiama l'albero verde, piatti concentrato ed è un prodotto, anche questo, naturale. Oltre a questo, ed è certificato Ecolabel, oltre a questo sono arrivati anche dei prodotti di questa linea che si chiama Emulsio. Io sono andata a vedere sul loro sito e hanno tantissimi tantissimi prodotti a base vegetale. Quindi anche questi sono dei prodotti naturali, si trovano alla Lidl, li ho trovati alla Lidl recentemente. Fatevi sapere se li avete visti e se li avete provati perché i prezzi erano veramente ottimi. E poi passiamo ovviamente a prodotti che potete trovare per esempio da Tigotà, che è Ecos, che se non mi sbaglio, Ecos lo potete trovare sia da Tigotà che alla Coppo e anche al Tigotà. Anche questi sono certificati ICEA e hanno una vasta gamma di prodotti, detergente vetri, poi polvere per lavatrice, lavastole liquide, genitante frigo, detersivo, bucato, ammorbidente detergente, bla bla bla, sgrassatore, tutto. Ovviamente i prodotti Winnis che potete trovare anche questi un po' ovunque. Tigotà, acqua e sapone, Ipercop, se avete però shop vicino da voi. E questi anche sono dei prodotti che ormai sono datati, ci sono da tanto tempo in giro. Io personalmente li utilizzo per casa e mi ci provo benissimo, specialmente il prodotto per lavare a terra. Lo trovo veramente ottimo, lavava bene, ha un buon profumo, buonissimo. E Ecos, che potete trovare all'Eurospin. Sono prodotti ovviamente a basso impatto ambientale e con prezzi super super economici. Come da 1€ addirittura ai 3,99€ massimo, quindi se siete fortunati a trovarli, perché purtroppo dipende anche dagli ipermercati che si trovano da voi. Poi andiamo avanti al Despar Gemma Verde. Se siete fortunati a trovarli, io per esempio a me non li ho visti per niente. Poi ovviamente ragazzi, se andate al Tigotà, trovate di tutto e di più. Trovate per esempio la marca che si chiama Natura Amica, poi trovate la You, che è un'altra marca di prodotti a base vegetale e biodegradabile. Quindi ovviamente dipende da quello che avete vicino a casa vostra. Sommariamente questi sono più o meno tutti i prodotti che potete trovare nei vari supermercati. Allora, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato d'aiuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su se volete altri video di questo genere. Fatemi sapere nei commenti che cosa vi piacerebbe sapere riguardo ai prodotti con buon inci. Magari se volete un video sulle creme viso, sui fondotinta, sulle creme corpo. Fatemi sapere così io provvederò a girare il video. Vi mando un grosso bacio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Instagram. Ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!